Figlio di una madre! Vacca! Mi presento i Duke! Adesso come fai a prendermi? Quando incontrano la legge... Guarda, guarda! I Duke! Bo e Luke la combattono! È di questo che parlavo! La cugina Daisy la manovra! Oh mamma, sarò licenziato! Dov'è, Bossog? A casa vostra! Grazie, Inos! E zio Jesse non si tira indietro! Johnny Knoxville! Io sono i signori Kinoshi e lui il signor Kinoshi! Voi siete giapponesi? Convertiti! Sean William Scott La mia compagna a distanza è australiana Prendiamo un canguro e lo sbattiamo al muro! Loro dicono così Ok Jessica Simpson Stai leggendo la mia targhetta, vero? Ho visto che le tue iniziali sono una doppia D Questa è la specialità della casa Burt Reynolds Trova i Duke E Willie Nelson Ci vediamo dall'altra parte! Hazard C'è qualche problema, dolcezza? Ho sentito qualcosa sbattere sotto la carrozzeria Sì Alla parte! Anche Sì Grazie Sì Sì